Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. In questo video vi mostrerò come applicare le ciglia finte passo dopo passo, che è un argomento che mi avete richiesto in tante e quindi ho deciso di spiegarvelo in un video. Tutto quello di cui avete bisogno sono tre prodotti, un eyeliner, ovviamente le ciglia finte, e la colla per ciglia finte. Vado adesso a tracciare l'eyeliner, come potete vedere. Quando applico le ciglia finte è sempre meglio applicare un velo sottile di eyeliner, una matita nera o un ombretto marrone scuro per sfumare bene la linea delle ciglia. Vado ad applicare queste come primo paio, sono della Red Cherry e le ho prese su internet. Prima cosa da fare quando applichiamo delle ciglia finte è appoggiarle sull'occhio per misurarle. Vediamo la misura e nel caso dobbiamo tagliarle. Tagliatele sempre dalla parte esterna, mai da quella interna. Poi le vado a piegare tra le dita così, per renderle più flessibili. In questo modo si adatterranno di più all'occhio. Prendo poi una colla per ciglia finte, questa è della iLure, che viene direttamente con l'applicatore. Nel caso usate una duo glue o una colla da tubetto, potete usare un bastoncino di legno d'arancio oppure un cotton fioc per applicarla. Applicatela su tutta la lunghezza e fate bene attenzione agli angoli, che sono quelli che si staccano prima, quindi insistete un po' sugli angoli. Adesso aspettiamo che la colla si asciughi. Date almeno 20-30 secondi, la colla deve diventare quasi trasparente, perché è a base di lattice, altrimenti se la attaccate prima che sia asciugata fate un po' strocchio e non aderirà all'occhio. Quindi l'ho incollata, guardando diritto nello specchio poggiate le ciglia al centro, poi incollate prima l'angolo esterno e poi quello interno. Adesso applico un altro paio di ciglia finte, perché voglio un effetto un po' più pieno. Il bello delle ciglia finte è appunto quello che potete costruire diversi effetti, potete applicare diversi strati di ciglia. Questo è l'effetto finito, se volete potete ridoccare l'eyeliner per mascherare un po' la linea delle ciglia. Spero che il video vi sia stato utile, grazie per aver guardato. Se non lo siete già, iscrivetevi al mio canale, condividete il video e seguitemi sui altri social. Un bacio!